Interventi per la manutenzione del verde urbano, oggi potature sono in programma su via di Santa Costanza, la strada dalle 7 sarà chiusa al traffico nel tratto che va da via Nomentana a piazza di Santa Costanza, cambieranno itinerario le linee 168, 310 e 544 che salteranno complessivamente tre fermate. Domani invece potature sono in programma su Corso d'Italia con chiusure dalle 7.30 alle 17.30 anche nel sottovia Ignazio Guidi, deviazioni su via Veneto su via Pinciana per 11 linee di bus. Sempre domani dalle 7 alle 20 potature sono in programma in via Cilicia, in questo caso a cambiare itinerario saranno le linee 30 e 77. Grazie per la visione!